A futura memoria via Armando Diaz a Frascati, ecco qui, ancora una volta si interviene per il rifacimento di questa strada, era accaduto già qualche anno fa ma evidentemente, ora il lavoro è sostanzioso, oggi 28 marzo 2019 a televisione testimonia, a futura memoria a futura memoria via Armando Diaz a Frascati, ecco qui, ancora una volta si interviene